Abbiamo fatto una partita che volevamo, una partita intensa, fisica, c'è stato un calo nel terzo quarto dove abbiamo permesso a Latina di rientrare facendo troppi errori, poi ci siamo reagruppati insieme, ci siamo coesi e da lì siamo riusciti a portare a casa la partita. Una considerazione rapidissima, adesso vi giocherete tutto da reggento, io penso che visto la parità di stasera, la differenza con Latina, penso sia stata evidente a livello proprio tecnico, la nostra produzione è sembrata superiore, più profondo e l'inizio del terzo quarto è stato un po' incomprensibile, so che è una proporzione e non mi risponderà, io però penso che lo sconcerto sia stato quello che stanno succedendo, chiusi perché alla fine non aveva fatto nulla per rientrare e la squadra di me è sembrata proprio un po' sconcertata come lo era, tutto il pubblico sugli spazi, detto questo poi era una canestra bella perché anche chi è più vevole può battere più forte. Ma sai, era uno scontro che valeva tanto sia per noi che per loro, noi siamo orientati più i contratti e poi però alla fine siamo riusciti a portare la partita, noi pensiamo a noi stessi, non guardiamo agli altri e dobbiamo andare giù ad agrigento per portare a casa i due punti. Nel terzo quarto siete passati dal più dodici al meno quattro, gli poteva diventare complicata la situazione, invece avete reagito da squadra compatta e da grande squadra perché subito un 6-0 ma soprattutto più i 15 finali, insomma anche a livello emotivo perché questa partita era diciamo una finale per entrambe e quindi subentrava anche l'aspetto emotivo e voi per di più giocando in casa avete anche più da vedere ma anche l'aspetto emotivo è stato gestito benissimo da tutti per i 40 minuti insomma. Sì come ho detto abbiamo avuto un calo nel terzo periodo però alla fine siamo stati bravi a compattarci, a capire dove sbagliavamo perché avevamo perso troppi errori, troppe palle perse che hanno permesso alla Latina di rientrare e da lì ci siamo coesi, abbiamo chiuso in difesa e siamo riusciti a riprendere il giusto margine di vantaggio. E se si passa da una finale a uno spareggio perché di fatti è quasi incredibile sempre che qualcuno abbia studiato la sceneggiatura perché ci sarà un Grigento Orzei nuovi e un Casano ferrato controchiusi e quindi sono due spareggi e ci si gioca tutto negli ultimi 40 minuti come per non anticipare troppo il pregare però come li affrontate anche questa settimana e questa partita insomma. Sappiamo è uno spareggio e quindi noi dobbiamo andare giù con il coltello fra i denti, essere fisici, duri e dare tutto quello che abbiamo. Poi il campo ci dirà se è abbastanza. Noi ci crediamo e quindi noi andiamo giù per provare a portare a casa i due punti. Ecco ultima cosa, niente su Basile, la sua importanza anche a difesa, quanti rimbalzi ha strappato in difesa che magari chi non ha un giocatore così fisico e così pronto rischia anche di farsi prendere tanti rimbalzi in attacco invece lui in un modo o nell'altro ne ha tirati giù una balanga quindi anche la sua importanza. Ha giocato praticamente tutta la partita oltre a quello che fa in attacco anche in difesa, queste situazioni che magari non sono così evidenziate a volte però sono molto importanti insomma. Sì, Grant è un giocatore fondamentale per il nostro gruppo e sia in attacco, sappiamo quello che può dare ma tutto passa da quello che può fare in difesa. Ha avuto un periodo in cui non è stato bene giocando senza mai allenarsi e adesso sta bene e i risultati si vedono. Grazie. Grazie sicuramente. Grazie a voi. Grazie.